Stasera tutto è possibile, da Stefano De Martino si rivede Manuela Alcuri, e torna Paolo Antoni. Oggi 29 aprile 2024 nuovo appuntamento in prima serata per il comedy show di Rai 2, ospite anche Jonathan Cascenian, anticipazioni della quinta puntata. Nuova settimana e nuovo appuntamento su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Oggi lunedì 29 aprile 2024 Stefano De Martino torna al timone del suo comedy show all'insegna del varietà e del divertimento in quella che sarà la quinta puntata stagionale, a tema Essere e benessere. Affiancato dall'immancabile Biagio Izzo, ma anche da Francesco Paolo Antoni, che tornerà dopo la recente assenza, De Martino si prepara ad accogliere all'auditorium di Napoli la solita carrellata di ospiti che si cimenterà nei giochi di stasera. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata. Stasera tutto è possibile, le anticipazioni e gli ospiti. Stefano De Martino torna protagonista della prima serata e inaugura una nuova settimana su Rai 2. Oggi lunedì 29 aprile 2024 il conduttore Campano ed ex compagno di Belen Rodriguez sarà infatti al timone della quinta puntata stagionale di Stasera tutto è possibile. Giunto alla sua decima edizione, dopo un esordio da urlo il game, comedy, show sta continuando a registrare i migliori ascolti di sempre grazie alla sua formula spensierata all'insegna del varietà tra giochi, sketch comici e, come sempre, tantissimi ospiti. Senza vincitori né vinti, come sempre, l'unica regola da rispettare è quella della leggerezza. Gli ospiti di Stefano De Martino e della quinta puntata di Step saranno Jonathan Kaschenian, Roberto Liperi, Giulia Vecchio e Manuela Arcuri. Quest'ultima torna nel programma, partecipò alla seconda edizione nel 2016, e in televisione dopo un periodo di silenzio. Al fianco di De Martino, come sempre, oltre all'immancabile panda, la mascotte del programma animata da Francesco Garzia, ci saranno i fedelissimi Ibiagio Izzo e Francesco Paolantoni, rientrante dopo l'assenza nell'ultima puntata, oltre a Herbert Ballerina. Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, che tornerà a cimentarsi nell'imitazione di Maria De Filippi. Tra i giochi, ovviamente, non mancherà la stanza inclinata, icona del programma con il suo pavimento inclinato a 22,5 gradi, ma anche altri grandi classici come Passa la Palla, Serenata Step, Rubba Gallina e Alfa Body. Quando e dove vederlo? Lunedì 29 aprile 2024. Stasera tutto è possibile va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21 e 20, con streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma Rai Play, tramite apposito ufficiale.